Dati positivi arrivano finalmente sul fronte della disoccupazione in generale ed anche giovanile. Il tasso infatti è sceso al 12,9%. Lo ha rilevato l'Istat spiegando come si tratti del primo segnale di contrazione dopo un periodo di crescita che si è potratto nella seconda metà del 2014 e il valore più basso da settembre. Il tasso di disoccupazione giovanile invece ha segnato una riduzione calando al 42% e gli occupati tornano a salire di più 0,4%. Il Premier Renzi ha commentato dicendo 100.000 posti di lavoro in più di un mese. Bene, ma siamo solo all'inizio.